Gli elementi principali della musica sono il ritmo e il suono. Parte tutto dalle mani, da quello che noi tireremo fuori dallo strumento. Nelle mani abbiamo già tutto quello che ci serve per avere tutta una serie di colori che ci serviranno anche in termini di arrangiamento. Sono Lorenzo Poli e vi aspetto su Masters of Performing Arts.